nuovo appuntamento con sonda art il podcast del centro musica sigla oggi siamo con lele roveri direttore artistico dell'estron club di bologna ciao lele ciao ciao allora io ho detto direttore artistico ma tu quanti ruoli hai nella tua vita molti mi sembra abbastanza diciamo che parto da quella la carica è quella di presidente amministratore legale rappresentante di estragon che diciamo una realtà abbastanza complessa per cui sono da mille sfaccettature in cui 999 ruoli devo ricoprirli per forza diciamo così ok ok allora sei la prima persona che intervistiamo dopo il concerto di bruce pinstein a ferrara ok e organizzi i concerti quindi io ti devo fare diciamo per forza di cose una domanda anche se fosse un po scomoda però te la faccio ok secondo te da organizzatore di concerti quel concerto andava come stato realizzato e quindi fatto oppure no la domanda è molto complessa nel senso che la soluzione perfetta non c'era ok ci siamo stati di fronte a una situazione tale per la quale abbastanza inedita peraltro perché poi non è che adesso stanno diventando purtroppo abbastanza frequenti queste situazioni di disastri naturali però collegato direttamente un evento di quel tipo uno dei più importanti dell'estate italiana e in quella precisa collocazione la risposta perfetta non c'era ok io parto da forse quello che avrei fatto fatto io lo dovevamo inaugurare proprio quel weekend di mondi festival a bologna l'abbiamo cancellato spostato di una settimana ma le ragioni sono molteplici a non c'era dietro un lavoro di quelli irrecuperabili nel senso che c'è la concerto della banda bardo la prendi la ricorda e la sposti diciamo posti non c'era dietro un lavoro di mesi e mesi come successo a ferrara bologna peraltro è stata adesso non dico l'epicentro comunque una zona molto colpita quindi da noi c'era molta più attenzione probabilmente rispetto a quella che si viveva a ferrara resta che il concerto secondo me tutto sommato è stato giusto farlo nel senso che alle spalle di quell'evento c'è un anno di progettazione nel caso di ferrara anche di più nel senso che la promessa di portare sprinstein a ferrara fatta da trotta al sindaco di ferrara risaliva due anni prima c'è stato un lavoro durato due anni con un migliaio di persone che ci lavorava che era già sul campo da quasi un mese e anche con risvolti economici non secondari non ultimo il fatto che in termini di ricaduta economica per la città di ferrara quello è un evento che spostava veramente tantissimi soldi se questo aggiungi che probabilmente a vedere le date del tuo non c'era la possibilità di recuperarlo e alla fine si è fatto la scelta giusta seppur dolorosa non la vedo come una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno semplicemente adesso si dice no so much gone mi viene da dire a bologna così come a ferrara così come il resto d'italia i cinema non hanno chiuso i teatri non hanno chiuso le partite allo che le hanno fatte perché lo sta a ferrara non si poteva fare il concerto se poi si discute sulla come dire no pertinenza o la delicatezza del momento si fa presto parlare però mi viene da dire peraltro che dal punto di vista squisitamente economico un evento di quel tipo è assicurato qualora il concerto non si facesse non ci sarebbe neanche stata una ricaduta economica per l'organizzatore ecco esatto affrontiamo un attimo questo tema perché sul web e sui social se tutti parlano e tutti parlano senza sapere ok ecco quando tu organizzi un concerto di piccole medie o grandissime dimensioni come questo l'organizzatore ha un'assicurazione che in qualche modo lo copre e cosa copre se lo fai ti tuteli in caso di disastri chiaro che non lo fai mai nel club è una situazione talmente circoscritta è protetta tra virgolette che non lo si fa per gli eventi all'aperto è diventata una consuetudine perché a fronte di un costo di un'assicurazione che può essere non so del 3 4 5 per cento del valore che vai a assicurare ti copre in toto e visto quello che sta succedendo ultimamente soprattutto i festival estivi è diventata una prassi si lo metti nei costi oltretutto voglio dire con i biglietti i prezzi di biglietti che va a quel concerto non penso che il costo dell'assicurazione fosse così inavvicinabile quindi dal punto di vista squisitamente economico qualora avessero annullato non dico che si sarebbe fatto le budella d'oro ma sicuramente quell'assicurazione ti copre tutto fondamentalmente i biglietti vengono rimborsati però tutti i costi sostenuti a livello organizzativo produzione artistico eccetera non ultimo anche se vuoi assicurare addirittura anche il guadagno a nel senso che se tu hai già biglietti venduti e sai che un margine di x quindi assicuri il margine ti assicuri anche quel margine chiaramente ti costa di più l'assicurazione però era la cosa più facile più indolore probabilmente anche economicamente più importante per l'organizzatore è chiaro che c'è un'aspettativa tale soprattutto per la città di ferrara che sì sì no no certo oltretutto poi si trascura sempre un fatto no non è che a monte decide l'organizzatore se il concerto si fa se si può non si può fare c'è una commissione di vigilanza il prefetto nella fattispecie che decide se ci sono le condizioni minime per tenerlo per realizzarlo dopo tutto il resto chiaramente è una questione più prevalentemente psicologica piuttosto che organizzativa nel senso che il momento era difficile c'è da prendere una decisione importante ma vanificare il lavoro di due anni e un migliaio di persone che era lì a lavorare è un indotto che ha portato sulla città perché alberghi ristoranti tutto quello che muove un concerto di quelle dimensioni io credo che seppur dolorosa è stata fatta la scelta più giusta insomma tra l'altro appunto tu hai parlato di indotti sulla città di ricaduta sulla città no tu organizzi anche concerti oltre a quelli dell'estero in posti tipo il parco nord dove si radunano 20 anche volte 25 mila persone avete mai fatto i calcoli su quant'è l'indotto che un concerto di questo tipo porta sulla città non è mai stato fatto nel nostro caso un'indagine specifica però ci sono società che lo fanno regolarmente mi viene da dire tipo firenze rock ha fatto una conferenza stampa lo scorso anno per dimostrare la ricaduta e su cinque eventi che era lo scorso anno firenze rock mi pare che l'indotto che produce sulla città fossero di parecchi parecchi milioni di euro quindi insomma tanti soldi parliamo di tanti soldi soprattutto in una fase per la quale l'economia non è che siano così fiorente esatto e allora adesso arriviamo invece a te ok come si diventa un direttore artistico di un club tu come lo sei diventato guarda è nato tutto da un percorso che è durato trent'anni festeggiamo trent'anni quest'anno anzi tra poche settimane per cui passione per la musica la voglia è di mettersi in gioco e la voglia di iniziare a fare qualche piccolo esperimento in circoli arci di bologna ai tempi dove tra l'altro c'era la fortuna che rispetto allo scenario come dire no molto povero di club che c'è adesso trent'anni fa la scena musicale era molto molto più importante adesso magari non c'erano i grandi club a bologna in quegli anni lì io sono nato in un periodo musicalmente in cui c'era l'isola del cantiere da vedere concerti a bologna poco di più casalone ma c'erano i centri sociali però c'erano tanti banalmente piccoli circoli che facevano già musica dal vivo e siamo partiti con un po' di esperimenti un gruppo di ragazzi tutti universitari appassionati di musica le prime cose fatte in casa tra virgolette per poi arrivare alla scelta di iniziare a fare cose sul serio quindi prima un circolo arci in gestione appunto prima in via mazzini poi in via giambologna con piccoli concerti rassegne teatrali poi quando abbiamo visto le cose funzionavano e abbiamo capito che forse avevamo come dire no le capacità per farlo diventare un lavoro fondata una cooperativa di produzione lavoro con tutti quelli che in quegli anni avevano collaborato e da lì partita questa avventura che dura da 30 anni ma è stato un po' un caso alla fine passione per la musica trovare le persone giuste al momento giusto trovare magari le condizioni il gancio di un circolarci in difficoltà che cercava qualcuno che facesse programmazione e per una serie di coincidenze in alcuni casi poi c'è quella scintilla che ti fa partire ti sei trovato in mezzo praticamente più o meno e dopo sei lì non puoi dire no ragazzi no no lo metto sei già vittima degli eventi ok ok attualmente estragone a quante persone da lavoro allora direttamente abbiamo tra soci e dipendenti 22 persone più un indotto di figure esterne banalmente tecnici piuttosto che personale di servizio quant'altro se arriva 50 persone indicativamente che diventa un centinaio d'estate quando si moltiplicano le iniziative vedi botaniche piazza lucio dalle tutte le cose che facciamo durante l'estate per cui diciamo così una base minima che quella che lavora tutto l'anno più che si allarga a seconda degli eventi più persona la chiamata che si utilizza durante l'estate come si crea come si forma una programmazione di un club piuttosto che di un posto come adesso citato botanic o piazza lucio dalla hanno caratteristiche diverse le programmazioni in questi casi hanno caratteristiche molto differenti tant'è che tra l'altro adesso c'è una situazione che si sta delineando molto molto difficile per i club grandi nel senso che noi siamo cresciuti io personalmente sono cresciuto facendo direzione artistica da subito con l'idea ben chiara su quella che era una linea artistica da tenere quindi puntando su alcuni generi con molta ricerca molta informazione le antenne sempre accese rispetto alle cose che funzionavano meno e diciamo così che sul segmento dei club piccoli una cosa che funziona ancora perché la possibilità di arrivare prima sulla band fidelizzarle farle crescere fare con loro un percorso che comunque è importante il lato negativo di tutta la vicenda che adesso avere un club da 1500 1800 posti come il nostro diventa molto molto difficile fare una direzione artistica nel senso che io adesso poi lo dico con cognizione di causa ma io su un locale di quel tipo adesso non faccio quasi più direzione artistica nel senso che tutto quello che è il segmento musicale che sta tra il piccolo club e il palazzo dello sport ovvero il club da mille posti in più sono una diciamo così una fetta di mercato che adesso è stata completamente assorbita dalle multinazionali che cosa vuol dire che quelle che erano le discografiche di 10 15 20 anni fa che guadagnavano sul sulla produzione discografica nell'era del digitale non hanno più margini la cosa più facile e semplice che hanno fatto è stata quella di comprarsi live vuol dire sostanzialmente che tu sei un club da 3 400 posti se ancora in una fascia di mercato che non interessa alle multinazionali per cui puoi ancora scegliere quell'artista produrtelo e portatelo a casa diciamo tutto quello che viaggia indicativamente sopra i mille paganti adesso viene comprato da da questi colossi che si producono direttamente le tournée quindi all'estragon l'artista lo vedi comunque però non c'è più quel lavoro di ricerca dietro che facevo prima in cui credevo in un gruppo lo porti magari ci rischi anche economicamente semplicemente adesso quello più che un club ormai diventa per tutti quelli delle sale oltre mille posti una sala concerti ok alla stregua di un palazzo dello sport come può essere un nipo l'arena dove il produttore arriva si produce il concerto tu gli fai pagare l'affitto ti tieni il bar e posso garantire che dal punto di vista artistico per uno che ha fatto il mio lavoro è una sconfitta di quelle no. Esatto tu lo stavo per dire è una sconfitta però questa è una sconfitta perché sei impotente no hai fatto un percorso no di trent'anni in cui hai sempre l'obiettivo di crescere di arrivare a un certo punto arrivi in cui poi sei impossibilitato a crescere perché oltre a quel livello non sei più in condizioni di andare comunque oltre a quel livello ti dicono fatti da parte faccio io e diventa molto molto difficile perché si è perso un po no quella la parte romantica della parte bella esattamente quindi mi hai detto praticamente che il lavoro del direttore artistico è cambiato negli anni radicalmente per un club appunto come l'estero è cambiato radicalmente sulla parte club soprattutto fortunatamente sull'estate ha ancora molti margini perché comunque su programmazioni estive come come botaniche piuttosto che di mondi festival ha ancora una certa autonomia e riesci in qualche modo a continuare a fare il tuo il tuo mestiere però diciamo che sulla parte più prettamente da club è diventato molto molto difficile la parte più bella paradossalmente è quella estiva in cui fai un focus su festival particolari su generi particolari dove ancora la possibilità di andare a scegliere i gruppi e provare appunto continuare a fare quel lavoro che hai fatto per anni di ricerca e anche di far conoscere le band magari non non troppo famose al pubblico assolutamente sì è quello lì l'unica controindicazione chiaramente che ti scontri con le economie molto più difficili nel senso che su quella fascia comunque ti prendi molti più rischi e lavori su una fascia di pubblico che va comunque in qualche modo educato perché l'artista che è già arrivato comunque tutto paradossalmente molto più facile portare sulla scena italiana artisti stranieri pressoché sconosciuti e dovere dire al pubblico guardate che questi sono forti non è mai molto facile è un lavoro molto molto difficile ne noto che c'è anche una certa pigrizia da parte del pubblico ad orientarsi sulle cose a colpo sicuro non c'è più quella curiosità che c'era esatto manca la curiosità e la voglia di conoscere assolutamente sì c'è alcuni che considerano i concerti ad ingresso gratuito il male assoluto secondo te lo sono non lo sono io non credo anzi quella può essere la chiave di lettura per dire ti faccio una proposta artistica che dal mio punto di vista è qualitativamente molto importante e se ho la possibilità di farlo gratuitamente a te non costa nulla vieni e fidati vieni a vedere quello che ti proponiamo e quello magari diventa no come dire no si innesca quella cintilla che ti permette poi di conoscere delle cose in cui differentemente andresti con un biglietto pagamento per cui non ha il male assoluto anzi credo che tutto sommato sia come dire no più è fruibile la scena musicale la possibilità di andare a vedere dei live anche economicamente più aiuta tutto il meccanismo è meglio per tutti assolutamente c'è stata la pandemia come tutti sappiamo e chi ne ha sofferto di più è stato il comparto artistico culturale musicale voi come siete sopravvissuti alla pandemia è stata dura nel senso che soprattutto per chi fa il nostro mestiere non hai mai concepito il lavoro con una serenità economica che ti permettesse di dire per due anni posso permettermi di star fermo nel senso che comunque le economie di un club soprattutto sono molto molto tirate non mi ricordo un vecchio promoter italiano che disse io non ho mai conosciuto nessun gestore di club che si non è una discoteca sulla quale magari negli anni d'oro facevi soldi facili ti sei sempre preso un rischio di impresa molto molto importante l'hai sempre fatto con la cognizione di rischiare e di vivere la giornata e se da un giorno all'altro si trovi in condizione in cui 28 febbraio 2020 il club chiude e sta chiuso 18 mesi inizia a porti delle domande a dire ma come facciamo per arrivarci anche perché poi voglio dire quello ormai è un dato risaputo che gli interventi pubblici verso il nostro settore sono stati pressoché ridicoli per cui ristori i ridicoli e alla fine ci mette avanti sulle nostre gambe raccolta fondi crowdfunding inventandoci quando possibile qualche iniziativa soprattutto l'estate seppur con distanziamento per tenere in un qualche modo non solo viva la scena ma per portare a casa quelle due economie che ci permette essere in qualche modo di andare avanti adesso fortunatamente siamo riusciti a congelare buona parte delle spese e la cassa integrazione regionale ha fatto il resto nel senso che comunque ci ha permesso di portare a casa un minimo di stipendio vero anche che quella è stata la ricaduta più importante tutti coloro che non vedevano la luce in fondo al tunnel hanno avuto la possibilità di trovarsi un altro lavoro lo hanno fatto e non sono tornati indietro anzi probabilmente la riscoperta no di avere degli orari normali invece che lavorare fino alle 3 4 di mattina eccetera si è aperto un mondo che ci ha messo in difficoltà dopo perché ma questa è una cosa anche livello nazionale quelle competenze che c'erano prima tecnici ma banalmente anche facchini proprio dal facchino tecnico quando hanno riaperto i locali e ripartito tutto il comparto ti sei reso conto che mancava probabilmente più del 50 per cento del personale e si è andata in difficoltà ma roba adesso noi nel nostro piccolo abbiamo sofferto molto per fortuna grazie anche a nuove figure che siano avvicinate la musica un sacco di ragazzi appunto che fanno corsi come fate voi del resto di approfondimento di questo mestiere ha inserito nuove persone nuove con fatica e mostruose all'inizio per quello che ci prende le misure sono robe che richiedono anni di esperienza però in qualche modo si è riuscito a costruire uno staff nuovo che è molto molto buono state dei casi eclatanti concerti negli stadi in cui servono 120 facchini non ci sono pullman da da all'est romania piuttosto che ucraina prima della guerra però facevano i pullman con i facchini dall'estero perché in italia non trovavi neanche i facchini per montare il ferro del palco per cui se c'è una situazione che anche quella inedita però è stata la diretta conseguenza di un comparto che ha sofferto tantissimo è stato quello più martoriato assolutamente quando si parla di musica al bar diciamo così tutti hanno tutti buona parte delle persone hanno un'idea che la musica è in mano da sempre non da adesso ma da sempre in italia ma anche all'estero a dei pescicani perché secondo te la massa il popolo quello che al bar ha questa idea strana legata alla musica guarda non lo so probabilmente chi lavora dentro la persona meno adatta a dare una risposta perché in realtà poi è un mestiere come tutti gli altri che è fatto spesso di passione di persone che non guardano neanche le economie ma i pescicani ci sono dappertutto nel comparto musicale come in ogni settore della vita quotidiana del lavoro del lavoro ti confronti quotidianamente con persone che chi più chi meno lo fa per passione chi più più e meno lo fa per per il profitto per cui da quel punto di vista forse la roba più eclatante appunto è quella che vedendola quotidianamente come gli eventi che vedi in tv piuttosto che negli stati nei palazzi dello sport vedi music business come l'habitat perfetto per i pescicani in qualche modo in realtà è vero ma non è vero nel senso che poi alla fine non è proprio così non è proprio così a volte allora artista a volte allora il manager che ci sta dietro però diciamo così che come in tutti i settori ci sono le brave persone quelli che tendono un po ad approfittarsi essere un direttore artistico di un club quindi avere a che fare con gli artisti è un privilegio da un certo punto di vista oppure a volte una rottura di scatole o che cosa ora dipende dai punti di vista io personalmente non ho mai dato grande confidenza agli artisti paradossalmente però avendo visto tutte le facce della medaglia avendo avuto più ruoli anche tour manager production manager personal manager agente ho avuto modo di confrontarmi spesso con artisti e anche su quelli devo dire che c'è ho avuto il privilegio di lavorare con artisti che mi hanno lasciato qualcosa anche a livello personale ma la mia tendenza è quella comunque a rimanere dall'altra parte della barricata che sei sempre dietro al palco ma c'è quello sul palco e quello sotto e quello sotto ma questa è una tendenza mia che non tendo a dare molta confidenza in realtà ci sono promoter che non vedono l'ora di parlare con l'artista champagne camerino io sono abbastanza settico non dico che tengo le distante per ognuno proprio ruolo poi se nasce come dire no ma perché non ti piace lo champagne allora secondo te adesso come adesso fare un bel disco è significativo per poi realizzare dei sold out oppure non tanto è uno strumento che serve ma non è più preponderante come della prima ok io adesso banalmente quando tu vai a proporre un artista questo mi metto dal lato no del dell'agente dell'artista del booking mi sono occupato per anni di turnare all'estero degli artisti italiani la prima domanda che ti facevano è ma il disco c'è c'è un disco nuovo è distribuito adesso una domanda che non ti fa nessuno questo già ti chiedono magari con quanti sono i follower quanti ascolti fanno su spotify però non c'è più questo legame diretto in cui facciamo il disco e c'è il disco e l'artista cresce con un disco alle spalle c'è ma diciamo che è un piccolo segmento di tutto quello che serve dove adesso più un fattore comunicativo che effettivamente di qualità e la nuova scena musicale lo dimostra molto questo sono molto critico nel senso che avendo avuto come dire no una concezione molto tradizionale del rock e appunto di questi passaggi fondamentali in cui l'artista deve essere anche bravo cavolo deve avere la tecnica oltre che delle qualità no adesso vedi prodotti un po più come dire no di laboratorio in cui molto spesso soprattutto sulla scena trap autotune a manetta per coprire le magagne poi quando ti rendi conto che in realtà il prodotto che c'è dietro veramente scarso magari efficace però dal punto di vista artistico è scarso e quella la riprova che tutto sommato puoi avere un grande disco dietro sì ma non serve più per fare il salto di qualità purtroppo cioè deve essere più presenti sui social piuttosto che appunto avere un bel disco paradossalmente sì è così è parlato di artisti appunto e hai avuto a che fare con artisti stranieri internazionali e italiani che si possono equiparare a livello di fama come estroco appunto perché la fascia è alta c'è differenza secondo te dalla come approccio intendo è da parte di un artista straniero piuttosto che di un artista italiano dentro un club piuttosto che nei rapporti appunto con un promoter con una gente vedi scorrendo oppure no non c'è differenza tra italiani e stranieri c'è differenza tra tipologie d'artisti nel senso che quelli che hanno alle spalle una gavetta tra virgolette importante vuol dire 10 15 20 30 anni di storia dietro riconoscono di più il tuo lavoro hanno un approccio di rispetto molto maggiore questo sì però questo indipendentemente che siano italiani o stranieri diciamo così che quelli che sono arrivati troppo presto tendono un po no a non dico mancare di rispetto però quantomeno a non riconoscere che tu sei un ingranaggio di una macchina importante che senta quell'ingranaggio la macchina non funziona e questo invece c'è una tendenza purtroppo sulle nuove generazioni su quelli che arrivano in sei mesi davvero all'estra con il palasport che quindi si avverte assolutamente sì tantissimi concerti organizzati ti chiedo quello di cui vai più fiero e quello che invece ti ha dato più grattacapi queste sono sempre quelle domande in cui fa fatica diciamo guarda a livello puramente empatico strammer festival la cosa più bella per i miei parametri che ho organizzato perché era quello che volevo era l'artista che volevo e lo volevo per inaugurazione di un'arena intitolata joe strammer quindi una coincidenza astrale perfetta fatto un concerto un festival riuscitissimo in cui abbiamo portato lì un sacco di amici appunto quelli con cui c'era un legame più importante quello è stato sicuramente almeno dal punto se non nonostante non sia stato il concerto con il maggior numero di paganti o con risvolti economici importantissimi però diciamo così che dal punto di vista di vederlo come un traguardo quello sicuramente sì ok concerti da grattacapi la maledizione di pitt doherty che tutte le volte perdeva aeree io rimaneva in albergo overdose cioè di ogni tutte le volte che arriva a pitt doherty era un delirio era un delirio ok ok e allora vediamo cosa mi è rimasto perché ho preparato un po di domande ah beh questa è classica ovviamente devo fartela qual è il tuo consiglio per chi ha idea di voler fare nella vita il direttore artistico di un club c'è un consiglio che si può dare a un giovane non è facile ci vuole una gran passione mi rendo conto che adesso sia forse anche più difficile di vent'anni fa perché la scena musicale talmente rapida che fai fatica a starci dietro mi rendo conto che adesso io stesso su tutta la nuova scena appunto come può essere quella trap non sono assolutamente aggiornato ci sono fenomeni tra virgolette che escono direttamente dai social sui quali non sono assolutamente aggiornato quindi una visione a 360 gradi mentalità aperta sicuramente quando noi invece siamo cresciuti no con i fondamentali ok adesso è fondamentale avere una visione a 360 gradi su tutto quello che ti gira intorno e poi tanta pazienza perché è una strada lunga allora adesso probabilmente ancora più lunga diventata assolutamente sì ma secondo te la musica in il futuro da che da che parte andrà cioè c'hai secondo te una visione che la musica fa 10 anni sarà dove perché sta cambiando ovviamente sta cambiando molto io ho sempre avuto la concezione no che come la musica come tutti gli altri settori siano grandi cicli no adesso siamo nella fase da un più che apno diciamo perché sta tutto andando in una direzione che è verso il commerciale il mainstream eccetera eccetera tutto quello che è multinazionale meno indie in realtà secondo me è un ciclo nel senso che poi ciclicamente esaurito l'attenzione verso quello magari si riparte si guarda un po più la qualità piuttosto che la quantità o all'estetica diciamo così per cui secondo me ragionevolmente in qualche anno c'è margine per tornare per tornare alla vecchia squadra io immagino di sì o quantomeno avrà i due mercati paralleli mi auguro che possono funzionare entrambi assolutamente assolutamente sì c'è un genere musicale che detesti che detesto nessuno che guardo con meno attenzione sicuramente la scena trap ma proprio per questi limiti oggettivi che anche dal punto di vista tecnico artistico non ci trovo ci trovo veramente poco di interessante però di roba detestabile comunque secondo me nulla proprio ok anzi invecchiando mi sto anche ammorbidendo un po' forse rispetto sì sì c'era della roba pop che prima era insopportabile dove adesso se mi sforzo riesco anche a trovare qualcosa di interessante dici ad ascoltarla dici ad ascoltarla ok ok va bene va bene ma ti ricordi qual è stato il tuo primo disco che hai comprato oppure no? Primo disco che ho comprato Appetite for Destruction Guns and Roses ok fase metallara proprio vabbè che tutti passiamo beh quella credo che sia un passaggio fondamentale assolutamente che tutti tutti passiamo sì poi è un amore che non va mai via quello magari lo tieni lì ogni tanto un po' viene fuori ogni tanto giusto? Esatto allora le agenzie in Italia che producono concerti sono diverse grosse piccole medie ma esiste una guerra tra di loro oppure no? C'è sempre stata molta competizione soprattutto sugli eventi estivi quelle più importanti aste feroci che poi alla fine avranno una ricaduta diretta sul costo del biglietto quindi sull'utente paradossalmente quindi niente di buono. Adesso devo dire che forse un po' sedati da tutti questi soldi delle multinazionali iniziano ad andare l'amore d'accordo nel senso che sono un po' più divise il mercato e diventa tutto un po' più facile e più gestibile nel senso che appunto le compagnie di ticketing fanno riferimento direttamente alle agenzie nazionali degli artisti con i quali in un qualche modo dividono utili e c'è un credo un accordo monte sul quale quantomeno sta passando la logica di dividersi il mercato per cui non c'è più una lotta intensa ma c'è ancora competizione sicuramente però si sta tutto un po' dividendo paradossalmente come ci dicevamo prima tra tutto quello che è commerciale che fa riferimento a queste multinazionali e quello che è il mercato indie anche come promoter che però è sempre più ristretto ma i promoter indipendenti in Italia sono veramente pochi davvero pochi quindi molti hanno si sono persi per strada si sono persi per strada o banalmente sono entrati in una logica di agenzia di riferimento sopra multinazionale sopra come può essere Live Nation piuttosto che altre che però a loro volta fanno riferimento alle vecchie discografiche quindi Sony piuttosto che BMG piuttosto che altre quindi alcune piccole sono state assorbite dai colossi sono state assorbite tutte quelle che lavoravano comunque con un discreto fatturato l'offerta l'hanno ricevuta mi pare di capire che un po' con il covid si è stato no questo si è interrotto un percorso che doveva durare 4-5 anni per affiliarsi completamente però è stata un'interruzione ma credo che diventi di fondamentale importanza perché poi il problema qual è che o tu convinci l'artista a continuare a rimanere indipendente e quindi costruisci sostanzialmente un mercato indipendente parallelo dove c'è l'artista indipendente il promoter indipendente l'agente indipendente il promoter tutti però è un discorso molto difficile perché poi alla fine quando un artista cresce abbastanza a fronte di un'offerta irrinunciabile l'accetta eh sì e voglio dire di no alla fine magari gente che si è fatto sacrifici per anni e anni sono nato nelle cantine per decenni alla prima occasione sì sì di prospettiva economica importante l'accoglio chiaro chiaro ma c'è stato mai un artista che ti ha far rigore ti ha ringraziato perché hai creduto in lui all'inizio quando nessuno ci credeva oppure non è mai successo? pubblicamente no pubblicamente no in privato sì però non sono quelle robe che poi tecnicamente non ne frega mai un cavolo nessuno quindi nelle interviste non diranno mai ah grazie ai tanti lele roveri che ci sono in giro per l'Italia privatamente sì nel senso che poi alla fine c'è gente che lo riconosce uno che ci cita spesso come fans agli albori con bei ricordi è San Giorgi dei Negramaro ah ok veramente assurdo perché tra l'altro è completamente fuori dal nostro target però continuo a citarci molto spesso nelle interviste il primo appuntamento importante come concerto continuo a citare Estragon che vedeva come il punto di arrivo beh è bella questa cosa molto molto questo riconoscimento no? anche se privato questo pubblico però di qualche se privato è bello allora tu sei diventatore artistico appunto abbiamo detto tante altre cose ma però nella vita cos'è che volevi fare realmente? guarda io in realtà sono uno di quelli che non sapeva esattamente cosa fare dico sempre no come battuta che ai tempi in cui devi iniziare a orientarti no? quando sei lì all'inizio dell'università c'erano quelli che pensavano a cosa fare da grandi e io che erano di quelli che pensavo a cosa fare il sabato sera per cui non mi sono mai posto il tema l'obiettivo era più esatto era più il distretto del tempo sì esatto diciamo che la visione a lungo raggio non l'ho mai avuta quindi ho avuto la fortuna di avere sempre avuto la passione per la musica per una serie di coincidenze invitato a lavorare ad alcuni concerti a 16 anni da amici promoter che organizzavano già concerti mi sono interessato a quell'ambiente però sì ho iniziato a fare l'università senza la più pallida idea di quello che sarei andato a fare di cosa sarebbe successo ultima cosa allora ma alla fine per l'Ele Roveri cos'è un concerto? bella domanda se riesco a tirarmi fuori da quella che è la routine perché sono 30 anni che organizzo 150 concerti all'anno ti dico provandomi a guardare da fuori che è la possibilità di fare contento qualcuno che viene al concerto cioè lo strumento per vedere dei sorrisi dentro la sala e questa è una cosa alla quale prima non badavo adesso ci faccio caso in cui quando sei lì che ti guardi il concerto in fondo sala perché ormai soffre anche di agorafobia devi stare staccato al muro con la gente lontana però quando vedi duemila persone che ballano si divertono dice cavolo però alla fine anche stavolta ho fatto qualcosa di buono quindi più una cosa proiettata agli altri di dare piacere agli altri piuttosto che a te stesso bene bene allora Lele grazie di essere stato con noi ovviamente che ci hai raccontato il tuo punto di vista e la tua professione e noi ci rivediamo al prossimo appuntamento grazie a tutti grazie a tutti